Allora, che cosa è successo? È successo che otto consiglieri del PD hanno votato contro una mozione sull'informativa vaccinale che chiedeva che ai lavoratori ed alle lavoratrici fosse fornita un'informazione completa su rischi e benefici delle vaccinazioni, in integrazione ad una informazione che era del tutto lacunosa e che gli presentava solo i vantaggi delle vaccinazioni e sembrava presupporre un obbligo vaccinale. A questo punto il sottoscritto Davide Tutino è stato accusato di essere in conflitto di interessi in quanto lavoratore, fino a poco tempo fa, di un asilo nido. Prima cosa, Davide Tutino non lavora più all'asilo nido. Seconda cosa, chiedere il rispetto di un diritto e l'applicazione della legge è essere in conflitto di interessi? Chiaramente se si fossero chiesti fondi in più, se si fossero chiesti stanziamenti o favori, si poneva il problema del conflitto di interessi. Nel momento in cui si richiede l'applicazione della legge, non esiste conflitto di interessi perché la legge è sovrana.